in questo numero di qui europa il parlamento si schiera con le donne afghane bce tassi invariati con un occhio all'inflazione nella tassonomia green anche gas e nucleare dal 2014 i cittadini afghani rappresentano il gruppo più numeroso di richiedenti asilo e di rifugiati ospitati sul territorio europeo solo nel 2021 circa 600.000 afghani hanno trovato ospitalità nei paesi membri dell'unione europea l'80% dei quali sono donne e bambini se ne è discusso durante le giornate delle donne afghane un evento che ha messo insieme soggetti chiave come le nazioni unite la commissione europea e diversi rappresentanti della condizione femminile in afghanistan l'iniziativa è stata promossa dalla sottocommissione per i diritti umani del parlamento europeo un segnale forte deciso delle donne del parlamento europeo e degli uomini di solidarietà di vicinanza alle donne afghane in particolare private dei diritti umani di qualsiasi diritto civile sottoposte a torture indicibili un segnale che vuole essere di tipo internazionale pacifico ma deciso gli europarlamentari hanno esortato le autorità in afghanistan a rispettare i diritti umani fondamentali e le conquiste degli ultimi vent'anni nel campo dei diritti delle donne in particolare per l'istruzione l'assistenza sanitaria e lo sviluppo economico e sociale la solidarietà del parlamento europeo è importante ma non basta perché le donne afghane non hanno bisogno di solidarietà hanno bisogno di libertà e allora dobbiamo pensare ad azioni meramente mirate e azioni solidali nei confronti di queste donne che oggi stanno gridando al mondo il loro dolore e la loro paura noi abbiamo bisogno di missioni di pace abbiamo bisogno di paesi e di unità nei confronti di queste donne che devono trovare ancora una volta diritti civili io credo che queste giornate siano sicuramente importanti per ascoltare il grido ma non possiamo continuare a dialogare o tentare un dialogo con chi questi diritti li ha negati i talebani negano i diritti civili di queste donne e con loro non ci deve essere nessun dialogo da parte delle istituzioni un isolamento che deve portare alla liberazione del paese la banca centrale europea non cambia orientamento di politica monetaria e tiene i tassi invariati nel dettaglio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali sul rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno quindi rispettivamente allo 0%, allo 0,25% e almeno 0,50% l'inflazione però comincia davvero a preoccupare anche se la BCE mantiene un atteggiamento diverso dalla banca centrale britannica che ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto per la presidente della BCE Christine Lagarde se le pressioni dei prezzi dovessero tradursi in un aumento dei salari maggiori di quanto anticipato o l'economia dovesse tornare più rapidamente alla sua piena capacità l'inflazione potrebbe rivelarsi più alta del previsto la BCE valuterà la situazione a marzo sulla base delle nuove previsioni ma la Lagarde ha chiarito che ogni decisione sarà comunque graduale nel primo trimestre del 2022 il consiglio direttivo della banca centrale porterà avanti gli acquisti straordinari di titoli nell'ambito del piano pandemico a un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente la fine del programma di stimoli rimane fissata al 31 marzo 2022 proseguirà invece il piano tradizionale di acquisti a un ritmo che per ora allenterà nei prossimi trimestri la Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva della cosiddetta tassonomia l'elenco delle fonti energetiche considerate sostenibili da un punto di vista ambientale dopo un dibattito molto acceso Bruxelles ha deciso di ribadire il menu presentato a dicembre inserendo anche il nucleare e il gas nell'elenco delle fonti che dovranno portare ad azzerare le emissioni entro il 2050 un menu non semplice da digerire l'atomo è sotto accusa per la sicurezza degli impianti e la gestione delle scorie il metano viene considerato inappropriato sul fronte della lotta alla CO2 lo scontro è molto pesante sul nucleare i due schieramenti sono guidati dalla Francia che ospita 56 centrali atomiche e dalla Germania che invece ha avviato il progressivo smantellamento delle sue il governo italiano è intenzionato ad approvare il regolamento senza modifiche considerando che non abbiamo centrali nucleari e utilizziamo il gas solo per il 40% del fabbisogno per l'alta incidenza della produzione idroelettrica la Commissione ha chiarito che comunque ogni stato potrà scegliere il mix energetico che preferisce Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti